Siamo giunti al secondo momento di apertura al pubblico del Tempio dei Liberi Muratori del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani per questa Gran Loggia 2023 al Palacongresso di Rimini. Gli antichi doveri, quali eterni valori, cui essa è dedicata, ci conducono a parlare dell'uomo nell'età della tecnica, con una relazione di un filosofo, psicoanalista e docente universitario italiano ben conosciuto. Dalla laurea in poi le sue esperienze di insegnamento sono numerose, all'inizio storia e filosofia, al ginnasio Zucchi di Monza, poi antropologia culturale, alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove ha insegnato anche filosofia della storia, psicologia generale e dinamica, filosofia morale e di cui è adesso professore emerito. Numerose le sue esperienze in Italia e all'estero, è uno dei principali traduttori e divulgatori in Italia dello psichiatra e filosofo Karl Jaspers, conosciuto all'Università di Basilea, da lui frequentata, e argomento della sua laurea a metà degli anni Sessanta. Per anni ha collaborato con il Sole 24 Ore ed è poi successivamente autore di editoriali ed approfondimenti con il quotidiano La Repubblica. Ha scritto numerosi saggi e numerosi libri, l'ultimo per Feltrinelli è il libro delle emozioni del 2021, ma è di inizio millennio, anzi di fine del millennio scorso proprio a cavallo, sempre per Feltrinelli, Psiche e Tecne, l'uomo nell'età della tecnica che ebbe un buon successo approfondendo un argomento che già allora era il centro dell'attenzione da tempo. A maggior ragione in questi abbondanti 20 anni la tecnica si è ulteriormente implementata e non si tratta più soltanto di avere a disposizione strumenti che ci consentano di meglio operare in vari campi che sono neutri rispetto all'utilizzo che se ne può fare per il bene o per il male non è solo tecnologia ma è qualcosa di forse più vicino a un'essenza di vita. Sentiremo quindi la relazione sull'uomo nell'età della tecnica del professor Umberto Galimberti. Grazie per essere qui per la gran loggia del grande oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani e dopo il benvenuto che le ha dato il nostro applauso a lei la parola. Ne possiamo fare anche un altro di applauso. Buongiorno, il tema è l'uomo nell'età della tecnica e la prima cosa che dobbiamo smontare dalla nostra testa è che oggi la tecnica sia uno strumento nelle mani dell'uomo. Questo è quello che abbiamo sempre pensato e continuiamo a pensare. In realtà la tecnica è diventata il soggetto della storia e l'uomo è diventato un funzionario di apparati tecnici. Questa è la tesi che va enunciata subito in maniera tale che si capisca il movimento del discorso. Dunque, il problema della tecnica nasce in Grecia perché la Grecia riteneva che la natura che nessun uomo e nessun dio fece, quindi la natura non era per i greci una creatura di Dio, ma era come loro l'hanno definita uno sfondo immutabile che nessun uomo e nessun dio fece, sempre stata, è e sarà. Gli uomini hanno il compito di contemplare nel senso greco di catturare le leggi di natura per costruire una città secondo natura e per conturre la vita della seconda natura. Un giorno Prometeo donano agli uomini la tecnica, la capacità del calcolo e soprattutto la capacità di modificare i metalli attraverso il fuoco rendendo i mortali, che sono gli uomini, perché i greci credevano e prendevano sul serio la morte, avevano due parole per dire uomo, la parola anera e la parola antropos, non le usano mai. Usano la parola zanetos, che viene da zanatos, zanatos vuol dire morte, zanetos, mortale. Questa dimensione di concepire l'uomo mortale significa che l'uomo era concepito dai greci al pari di tutti i viventi come uno che nasce, cresce, genera, muore senza nessun privilegio rispetto agli altri viventi. Perché la legge è la fissa alla natura e alla natura interessa il ricambio organico degli individui, congedarsi dagli individui vecchi e mettere in circolazione degli individui nuovi, a loro volta destinati alla morte, secondo il ciclo previsto dalla natura. Non c'è nessun primato dell'uomo nei confronti della natura, come invece c'è nella tradizione cristiana. e alla domanda che il coro pone a Prometeo, che aveva donato la tecnica agli uomini, è più forte la tecnica o sono più forti le leggi di natura? E Prometeo risponde, la tecnica di gran lunga più debole, astenestera, debolezza, astenia, della necessità che tiene ferma le leggi di natura. Allora tutto è tranquillo. Anche Sofocle dice che l'arattolo solca la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio. E anche il mare, anche la nave fende le acque del mare, ma la calma trassognata delle acque ricompone la quiete. Quindi nulla si scompone con l'avvento della tecnica in Grecia, perché la natura continua ad avere il primato e costituisce la legge universale di tutti gli eventi umani e naturali. Oggi però le cose non sono più così. E prima però di procedere con questo nostro ragionamento, dobbiamo considerare che c'è un senso in cui è possibile dire che la tecnica è stata la condizione per cui l'umanità ha potuto sopravvivere. Per la semplice ragione che gli uomini non hanno istinti. Anche se noi continuiamo a considerare gli uomini forniti di istinti, gli uomini di istinti non ne hanno proprio neanche uno. L'istinto è una risposta rigida agli stimoli. Sottolino la parola rigida, perché se io do una bistecca a una mucca, la mucca non la percepisce come cibo, se gli do un comune di fieno lo divora senza esitazione. Gli uomini non hanno istinti rigidi. Anche il famosissimo istinto sessuale, così poco istintivo, che io posso fare l'amore con un tacco a spillo o con tutte le altre forme di perversione, possibili e immaginabili, cose che non sembrano sia concesso dagli animali. Oppure posso indirizzare e conferire a una pulsione sessuale una meta non sessuale, ovvero fare un'opera d'arte, scrivere una poesia, comporre un romanzo, quello che Freud chiama sublimazione. Gli uomini non hanno istinti, hanno pulsioni a meta indeterminata. Quindi il fatto che non abbia un istinto è quello che differenzia radicalmente l'uomo dall'animale. Per cui quella definizione tradizionale secondo cui l'uomo è un animale ragionevole è una definizione completamente sbagliata. Perché l'uomo di animale non ha proprio niente, perché mi manca il principio tipico dell'animale che è l'istinto. E questo ci consente di capire perché l'uomo ha bisogno di lunghi anni di educazione per orientare le pulsioni a mete compatibili con la convivenza umana. Gli animali non hanno bisogno di anni di educazione, perché sono regolati dall'istinto, che determina i loro comportamenti per tutta la vita. Per questo gli animali non hanno storia. L'istinto li codifica in maniera deterministica. Ancora, oltre all'educazione, gli uomini hanno bisogno di istituzioni. Gli animali non hanno bisogno di istituzioni, non hanno bisogno di politica, perché il loro comportamento è regolato dalla dimensione istintuale, senza oscillazioni e senza variazioni, essendo l'istinto una risposta rigida allo stimolo che proviene dall'esterno. Educazione e istituzioni sono la misura dell'uomo caratterizzata in un certo qual senso di una carenza istintuale, che è un deficit, rispetto agli animali è un deficit. Però se sfruttato opportunamente può diventare una grossa possibilità. E questo spiega perché se io porto un leone al polo nord, quello muore, perché l'istinto lo lega a un certo ambiente. Se porto un animale del nord all'equatore, quello mi muore, perché è legato al suo ambiente polare, mentre l'uomo grazie alla mancanza di istinti ha un'adattabilità a tutte le situazioni e può abitare l'intero universo. Quindi abbandoniamo la concezione che l'uomo abbia istinti e a rimedio della mancanza di istinti è stata consegnata agli umani la tecnica, che incomincia quando l'uomo, non arrivando a prendere la banana con le sue braccia, prende un bastone e abbatte la banana. Lì incomincia la tecnica, che è stata la salvezza dell'uomo. In un certo senso potremmo dire che la tecnica è ciò che ha consentito a questo tipo di viventi, privi di istinti, disarmonici con la natura, a salvarsi dalla loro estinzione. Queste cose che gli uomini non hanno istinti e sono stati salvati dalla tecnica, lo dice Platone, Tommaso d'Aquino, Kant, Erder, Nietzsche. Nel secolo scorso l'ha detto Bergson, l'ha detto Arnold Galen, quel bellissimo libro intitolato L'uomo. E però tutti quanti continuiamo a pensare che gli uomini hanno istinti. Ecco qui, bisogna smobilitarlo il nostro pensiero, basta accomodarsi su frasi fatte. La forza del pensiero è quella di modificarsi continuamente in base a quello che si riesce a scoprire. Ma noi facciamo fatica ad abbandonare le nostre idee perché ci hanno protetto per tutta la vita. E allora queste idee che sono realtà delle abitudini mentali assolutamente non verificate, quando diventiamo vecchi le chiamiamo persino principi. Invece sono solo abitudini che non abbiamo mai messo in discussione. Abitudini mentali mai messe in discussione. E il compito della filosofia è proprio questo, smobilitare le idee istantie, criticarle, andare in crisi anche per la modifica di queste idee. E questa è la ragione per cui la filosofia dovrebbe essere insegnata già dalla prima elementare. quando i bambini pongono già domande filosofiche. Sentivo nella galleria di Milano una volta camminando un bambino che dice alla sua mamma che accompagnava una sua amica, il bambino dice secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. La mamma invece di rispondere gli ride con la sua amica e dice va che domande fa il mio bambino senza rispondere al bambino. Mentre doveva rispondere perché il bambino cosa stava cercando con quella sua battuta? Stava cercando il principio di causalità. E allora bisogna spiegarle le cose ai bambini. Perché le loro domande sono già filosofiche. Ma la filosofia verrà eliminata perché più la società diventa populista, più la società diventa autocratica, più la società assume queste tonalità. Ha bisogno sempre meno di spiriti critici. E meglio spiriti addormentati. Spiriti che ripetono quello che hanno sempre imparato senza mai metterli in gioco le proprie convinzioni. Ed è Platone che aveva incaricato il fratello di Prometeo, Epimeteo. I nomi in Grecia non sono inventati. Prometeo vuol dire colui che pensi in anticipo. Metis vuol dire pensare. Pro in anticipo. Epimeteo è quello che pensa dopo. Lo stupido, l'improvvido. E Zeus aveva incaricato Epimeteo di dare a tutti i viventi la loro qualità. E siccome era stato improvvido, giunto agli uomini, non aveva niente in mano da dare. E allora Zeus chiamò Prometeo e disse a Prometeo, dai agli uomini la tua virtù, quella di vedere in anticipo. Questa è la virtù dell'uomo. Tant'è che Hobbes dice nel 1600, mentre gli animali mangiano quando hanno fame, gli uomini sono affamati anche dalla fame futura. Quindi anche se hanno lo stomaco pieno si danno da fare per procurarsi il cibo per la volta che avranno di nuovo fame. Questa è la caratteristica degli uomini. Prometeo, l'uomo anticipa, anticipa il guardinnanzi. Ha una posizione retta, a differenza degli animali. Ha un orizzonte davanti di sé. Ha dei problemi da risolvere. Il problema è una parola greca che viene da problema. Getto avanti lo sguardo. Ballen vuol dire gettare, però avanti lo sguardo. Bene, abbiamo detto che per i greci quindi la natura continua ad essere l'immutabile. e la tecnica è più debole della forza della natura. Tutto tranquillo quindi. Nel mondo cristiano le cose vanno diversamente, perché nel mondo cristiano, giudaico cristiano, la natura è una creatura di Dio, quindi è buona. Salvo poi quando emette eruzioni vulcaniche, su umani, terremoti. Ma lì questi sono i problemi di coloro che credono in Dio, mettere d'accordo la bontà della natura con i disastri che la natura fa da sé. Quindi noi oltrepassiamo questo scenario. La natura è una creatura di Dio, quindi non è quello sfondo immutabile che nessun uomo o nessun Dio fece, ma è il prodotto di una volontà, la volontà di Dio che l'ha creata. Ed ha consegnata ad un'altra volontà, la volontà dell'uomo. In che modo l'ha consegnata? L'ha consegnata nella forma del dominio. Quando Yahweh allontana Adamo ed Eva dal paradiso terrestre a causa della loro colpa, cosa dice loro? Dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque marine. E allora nasce questo sigillo dell'uomo dominatore della natura. E questo sigillo diventa quasi il messaggio che si protrae per secoli e per secoli l'uomo si sente autorizzato a dominare la natura. Fino ai giorni d'oggi, dove gli effetti di questi domini si vede a che punto sono giunti, al punto da mettere a rischio la sussistenza della terra. Frase edulcorata, secondo me ormai è già messa a rischio. Ecco, in che senso allora questo dominio è qualcosa di pernicioso. Perché è pernicioso? È pernicioso perché l'uomo è stato concepito come padrone, signore della terra. E ha trasformato la terra in materia prima. È cambiata la percezione della terra. Materia prima da usare fino all'usura, dice Heidegger. Nutzung, fernutzung. Usare fino all'usura. Dimenticando che è solo qui noi possiamo vivere. Potremmo anche andare su Marte, ma per quanto ne sappiamo è solo qui che possiamo vivere. Ma per salvare la terra bisogna cambiare il paradigma. Bisogna smettere di concepire l'uomo padrone della terra, come se la terra fosse qualcosa a sua disposizione. E a questo hanno provveduto gli scienziati del Novecento, a partire dalla fisica quantica di Planck, dalla fisica instaniana, dalla reversibilità della materia in energia, i quali ci hanno insegnato che l'universo non ha un centro, che gli uomini abitano la periferia di una galassia, tra le mille galassie che compongono il sistema solare. non è il padrone dell'universo, non ha un centro e soprattutto è dipendente da tutti gli esseri viventi che compongono la natura, perché gli animali possono esistere solo nutrendosi dalla fotosintesi delle piante e le piante possono esistere solo se vengono alimentati dall'anidride carbonica prodotta dagli animali e dall'azoto prodotto dai microorganismi. Ecco qui il cerchio della dipendenza totale dalla vita umana, dalle piante, dagli animali, dai microorganismi. Siamo tutti connessi, persino il pensiero, dice Oswald Wilson, quello che ha scritto un libro di sociobiologia negli anni 90 e che ha scritto un bel libro intitolato La creazione due anni fa. L'uomo, dice Oswald Wilson, è diventato la forza geofisica più distruttiva di tutte le distruzioni che la Terra può produrre da sé. E se non riusciamo a concepire questa interdipendenza di tutti gli organismi, lo stesso pensiero è prodotto dalla stessa energia che fa evaporare le acque del mare, che fa scendere la pioggia del cielo per far crescere le produzioni sulla Terra. È tutto connesso. Non si può trattare la Terra come un oggetto a disposizione dell'uomo. Questo è stato il grande messaggio nefasto che ci proviene dalla tradizione giudaico-cristiana. E le cose vanno dette con chiarezza. Tant'è che la scienza segue perfettamente il paradigma cristiano. Nel 1500 Bacone scrive che attraverso la scienza e la tecnica noi possiamo redimerci dalle colpe del peccato originale e quindi compiere un'operazione di redenzione dell'umanità perché scienza e tecnica ridurranno le pene del peccato originale che sono la fatica del lavoro e la riduzione del dolore. E allora se la scienza e la tecnica concorrono a ridurre la fatica del lavoro, vi ricordate quando Dio allontana dal paradiso terrestre Adam ed Eva? Ad Adamo dice guadagnerai il pane col sudore della fronte e tu donna partorrerai nel dolore. Queste due dimensioni, dice Bacone, saranno ridotte dalla scienza e dalla tecnica perché l'una e l'altra riducono la fatica del lavoro e riducono la sofferenza. Quindi la scienza concorre alla redenzione. La scienza è profondamente cristiana. Perché il cristianesimo, a differenza del mondo greco, il mondo greco concepiva, siccome si regolava sulla natura, concepiva il tempo come un ciclo, molto simile al tempo come lo concepiscono gli agricoltori. Inverno, primavera, estate, autunno e poi inverno. E chi aveva visto molti cicli che erano le persone anziane, potevano insegnare ai giovani che ne avevano visti pochi. E quindi trasmette l'esperienza, tradizione. La tradizione giudaico-cristiana invece concepisce il tempo come un rettilineo. All'inizio c'è il peccato originale, il passato, che è il male. Nel presente è la redenzione, nel futuro la salvezza. Il futuro è assolutamente positivo. La scienza, che siamo soliti a contrapporre alla religione, pensa esattamente alla stessa maniera. Il passato è negativo, ignoranza. Il presente è ricerca. Il futuro è progresso. Cristianesimo allo stato puro. Anche Marx è un grande cristiano sotto questo profilo. Il passato è negativo, ingiustizia sociale. Il presente è far esplodere le contraddizioni del capitalismo. Apro una parentesi. Marx non era un rivoluzionario. chiusa la parentesi. Il futuro è giustizia sulla terra. Il futuro è positivo. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione, pensa che le nevrosi, i traumi si formano nel passato, nell'infanzia, nel presente terapia, nel futuro guarigione. Tutti cristiani in occidente. Sono cristiani credenti, sono cristiani gli atei, sono cristiani gli agnostici, perché tutti condividono questa modalità di pensare, che consiste nell'affermare che il futuro porta rimedi al passato, ai male del passato. Non è vero. E quando sentite i politici che dicono speriamo, auguriamoci, auspichiamo, sono tutte parole della passività. Stanno dicendo stiamo fermi, il futuro provvederà. No, il futuro non provvede per niente. Anche perché Dio è morto. Dio è morto non significa se Dio esiste o Dio non esiste. Significa se Dio fa mondo, è vivo, oppure non fa più mondo. È morto. Se prendiamo ad esempio il Medioevo, dove la letteratura parlava di inferno, purgatore e paradiso, dove l'arte era arte sacra, e persino la donna era donna Angelo, se io tolgo la parola Dio non capisco più niente di quell'epoca. Quindi Dio è vivo, c'è, fa mondo. Se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo lo capisco ancora nel mondo contemporaneo. Sì, lo capisco ancora. Perché? Non lo capirei più se togliessi la parola denaro, che è diventato il generatore simbolico di tutte le cose, o la parola tecnica, che è diventata il soggetto della storia. Allora Dio è morto. Ma se Dio è morto anche tutto l'orizzonte, dischiuso dal cristianesimo, dalla scienza, dal marxismo, dalla psicanalisi, secondo cui il futuro è rimedio ai mali del passato, collassa. Collassa. E si entra in quella condizione che Nietzsche aveva ben descritta e che i giovani conoscono perfettamente, che si chiama nichilismo. Perché Nietzsche doveva annunciato la morte di Dio dice, ma dove andiamo adesso noi ora? Dove andiamo precipitando, dice Nietzsche, in un assoluto nulla. Cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Se Dio è morto il futuro non è più una promessa. E che cos'è nichilismo? Che Nietzsche chiama l'ospite inquietante? Nichilismo manca lo scopo. Il futuro non è più una promessa. Manca la risposta al perché. Perché devo lavorare, perché devo studiare, perché devo stare al mondo. Tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è assolutamente una cosa importante. I valori non sono entità metafisiche che scendono dal cielo. I valori sono dei coefficienti sociali che una società adotta semplicemente perché le ritiene più idonee a ridurre i conflitti nella comunità. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici. Dopo la rivoluzione francese la società si è organizzata secondo valori che vedo scritti qui alle mie spalle di libertà, uguaglianza e fraternità, in pratica di cittadinanza. Sono cambiati tutti i valori e non è finita la storia. I valori mutano e meno male che mutano. Se i valori non mutassero saremmo ancora l'età dei babilonesi. Quindi il collasso dei valori non è interessante. E quando le persone anziane dicono ai loro figli e nipoti ai miei tempi, non lo dite mai ai miei tempi, perché i vostri tempi, cari signori della mia età, erano molto fortunate rispetto ai tempi dei giovani di oggi. Molto. E la fortuna consisteva nel fatto che il futuro era lì ad aspettarci. Io ho insegnato in una prima, seconda e terza liceo per un anno intero da supplente in sostituzione di una professoressa che non poteva più insegnare perché aveva una gravidanza a rischio. Quando ancora non ero laureato, ho insegnato in prima, seconda e terza liceo e frequentavo il quarto anno di filosofia. Perché? Perché non c'erano filosofi. E quindi il futuro era lì ad aspettarmi. Oggi se un ragazzo si lavora in filosofia, potrà fare tante cose, ma la prima cosa che deve togliersi dalla testa è di andare a insegnare filosofia. Quindi il futuro è cambiato. Ai nostri tempi era lì ad attenderci. Oggi, se non è una minaccia, è imprevedibile. E se è imprevedibile non retroagisce come motivazione, quando addirittura non agisce come disperazione. Non è un caso che in Italia si sopprimano, si suicidano 400 studenti all'anno. La televisione fa bene a non dirlo perché se no ci sono anche processi di imitazione. Ci sono 3 milioni di anoressiche. Ci sono 2 milioni di autolesionisti. Ci sono 200.000 persone che stanno chiuse nella loro stanza affetti da quella sindrome coreana, giapponese, che è Kikimorum, dove sei sempre collegato col computer, parli solo con i tuoi collegamenti, non esci mai dalla tua stanza, i genitori provvedono a farti avere nella tua stanza il cibo e quello che serve per le tue attività fisiologiche. E poi dopo due anni si suicidano. Quindi i giovani stanno male, perché il futuro non c'è, non è lì ad aspettarli. E io sono convinto che i giovani oggi si drogano, bevono, bevono tanto. Non credo tanto per il piacere che possono dare queste sostanze, quanto piuttosto perché bere e drogarsi lavorano come un anestetico. si anestetizzano dall'angoscia che provano quando sporgono con il loro sguardo sul futuro. E il futuro non prospetta loro granché. Quindi sono droghe anestetiche. Non riguardano il piacere o l'emozione, ma riguardano l'anestesia dell'angoscia. Chiudo la parentesi per farvi capire che cosa significa il nostro tempo e che cosa si produce nel nostro tempo. Che siamo solo a metà del discorso, che non possiamo evitare di guardare. Che si chiama nichilismo. Ospite inquietante. Dice bene Heidegger, commentando queste parole di Nietzsche, dice l'ospite inquietante è inutile metterlo alla porta perché già da tempo si aggira per la casa. Nostro compito è guardarlo bene in faccia. Perché uno dei problemi da risolvere è che non bisogna lavorare sulla base della speranza, dell'ottimismo e di cose di questo genere. Se vogliamo modificare le cose bisogna guardare la realtà così com'è. E a proposito di ottimismo, ricordo un episodio di una decina di anni fa. Parlavo all'Università di Praga e c'erano gli studenti che erano preoccupati che l'Unione Sovietica tornasse a invaderla. Io dicevo loro, non fate i paranoici, capisco che per 50 anni avete avuto lo scarpone sovietico sulla vostra testa e quindi siete allarmati. Adesso le cose sono cambiate. Sapete cosa mi ha detto il rettore dell'Università rivolgendosi a me alla fine della mia discussione? Caro professore, l'ottimismo è la qualità delle persone poco informate. Teniamola presente questa frase. Io la tengo ben presente. Tante volte l'ottimismo è solo perché non abbiamo troppe informazioni. Dunque, il grande capovolgimento della tecnica avviene nel 1600. Perché da quando i greci hanno avuto la tecnica per dono di Prometeo al 1600 non è cambiato niente dal punto di vista tecnico. I mezzi tecnici erano modesti e l'uomo era il padrone della tecnica. Il 1600 subentra una novità non indifferente, che è la nascita della scienza moderna, quella che è in vigore tutt'oggi. Che consiste in questo. dice Cartesio, dicono Cartesio, Galileo, Bacone, i scienziati dell'epoca, che inventano la scienza moderna. Non dobbiamo fare come i greci che contemplavano la natura per scoprirne le leggi. Noi dobbiamo fare una cosa al contrario. Noi uomini, noi scienziati naturalmente, anticipiamo delle ipotesi. Sottoponiamo le ipotesi a esperimento. Se l'esperimento riesce, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Si capisce? Non stare a cercare le leggi di natura, osservando la natura, ma anticipando delle ipotesi, sottoporre l'esperimento, e se l'esperimento riesce, assumiamo le nostre ipotesi come leggi di natura. Leggi eterne? No. Finché non ne troveremo di migliori, più comprensive, più esplicative. A quel punto la natura viene ridotta a oggetto di osservazione dell'uomo. Non è più il luogo d'abitazione dell'uomo, è oggetto di osservazione dell'uomo. E Kant parla di questa rivoluzione come di una rivoluzione copernicana. E dice, come Copernico, un bel giorno, dice, proviamo a ipotizzare che non sia la Terra al centro del sistema solare, ma sia il Sole, e a girare sia la Terra intorno al Sole, non il Sole intorno alla Terra. Alla stessa maniera, occorre tenere presente questa rivoluzione che è stata effettuata nel 1600 da Galilei, e cita Galilei, Kant, che consiste nel fatto che, mentre prima l'uomo si rapportava alla natura come uno scolaretto che beve tutto quello che dice il maestro, la natura, oggi si comporta come un giudice che obbliga l'imputato, la natura, a rispondere alle sue domande. Questo è il grande capovolgimento che si è verificato nel 600. La natura è diventata un oggetto che risponde alle domande poste da quel soggetto che è l'uomo. L'uomo non si pensa più come membro della natura, ma si pensa come il depositario dell'intervento sulla natura, a partire dalle sue ipotesi. Nasce la scienza moderna. Oh, non sto parlando male della scienza moderna. Sto facendo vedere i percorsi teorici per cui si è passati a oggettivare la natura, a vederlo come qualcosa che sta di fronte a me e su cui io posso operare con più efficacia di quanto non potessero operare i greci con la loro strumentazione. Dopodiché, dopo aver fatto questa grande rivoluzione, guardate che questa rivoluzione introdotta da Cartesi, da Vacone, da Galileo, è la stessa trasformazione, la stessa modalità con cui procede la scienza oggi. Avanzare delle ipotesi, sottoporre l'esperimento e se l'esperimento riesce, si assumono le nostre ipotesi come leggi di natura. Era Covid. Se sentivate, i vari epidemiologi avevano idee diverse, se vi ricordate, perché ciascuno partiva dalle sue ipotesi. Queste ipotesi vengono sottoposte all'esperimento, se l'esperimento non riesce, vengono abbandonate, se l'esperimento riesce, tutti si raccolgono nell'ipotesi verificata sperimentalmente, ben riuscita. Così precede la scienza, per prove ed errori. Dopodiché, nel Seicento, si continuava ad arare i campi come le aravano i babilonesi e i greci. Non era cambiato niente dal punto di vista della tecnica. Però c'è un altro filosofo nel 1800, tra il 1810 e il 1820, che in un libro di logica scrive due cose importantissime. La prima, la ricchezza delle nazioni non sarà più, come aveva detto 40 anni prima, Adam Schmitt, non consisterà più nei beni che si possiedono. Questa era la tesi da Adam Schmitt, che aveva scritto il primo trattato di economia politica sull'origine e la natura della ricchezza delle nazioni. Ma la ricchezza delle nazioni consisterà non nel possesso dei beni, ma nel possesso degli strumenti. Perché i beni si consumano, mentre gli strumenti producono i beni. Per cui è più ricco chi ha gli strumenti di chi ha i beni. Avete già capito che la tecnica avrebbe spostato la ricchezza dal bene alla produzione del bene, cioè allo strumento. Il secondo teorema è ancora più radicale, più interessante. Dice Hegel, quando un fenomeno aumenta quantitativamente, sto parlando di quantità, non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma abbiamo anche un mutamento qualitativo radicale del paesaggio. Se qui viene un terremoto di due gradi della scala Mercalli, non ce ne accorgiamo neanche. Se però aumenta quantitativamente, arriviamo al nono grado della scala Mercalli, qui abbiamo un mutamento qualitativo del paesaggio. Cioè questa sala non c'è più, abbiamo un comodo di macerie. L'aumento della quantità determina la variazione della qualità. Capito questo teorema? E' importantissimo. Il primo a usufruirlo è stato Marx. Marx non la pensava come Hegel, perché Hegel era un filosofo molto di destra, Marx invece lo era di sinistra. Però Marx ammirava molto Hegel e ha assunto questo teorema. A proposito del denaro, dice Marx, il denaro viene considerato un mezzo in vista di due fini che sono la soddisfazione dei bisogni e la produzione dei beni. Però, dice Marx, il denaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e produrre qualsiasi bene il denaro non è più un mezzo, ma diventa il primo fine per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Abbiamo cioè quella metamorfosi dei mezzi che diventano il fine, capovolgimenti radicali del rapporto mezzo-fine. Se noi lo applichiamo alla tecnica, se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi cosa, la tecnica non è più un mezzo, ma il primo fine che tutti vogliono, perché altrimenti quel che si vuole realizzare da scopo diventa sogno. Ecco che devo dire aumento quantitativo di un fenomeno. Ecco perché la tecnica oggi è il soggetto della storia, non più uno strumento nelle mani dell'uomo, perché è aumentata quantitativamente. Non avete scelto voi di parlare oggi col telefonino? E' stata la tecnica che ha deciso che d'ora in nazi si parla col telefonino. Ha esondato dal suo scenario. E' diventata sociologia. Accompagnando mio nipotino a scuola, uno signore che mi ha riconosciuto, mi ha detto, professore, mio bambino fa la quarta elementare e vuole uno smartphone. E io gli ho detto, glielo dia. Ma perché dici che devo dargliela? Perché se non glielo la dà, non è che lo priva di un mezzo tecnico, lo priva della socializzazione. Quindi la tecnica ha già deciso il modo con cui noi dobbiamo socializzare. Non è qualcosa che sta nel suo ambito, la tecnica. E non c'è etica, e non c'è politica che possa contenerla. Perché come fa l'etica a dire alla tecnica che può di non fare ciò che può? Si è mai vista una cosa del genere. Per cui l'etica può solo implorare la tecnica di non fare, ma le implorazioni lasciano il tempo che trovano. Per questo l'etica diventa patetica quando pensa di poter frenare alla terra la tecnica con le sue invocazioni. Bene, se la tecnica... Non avete mai pensato perché l'Unione Sovietica è crollata nel 1989 invece che nel 1960. Ogni tanto, certe domande bisogna farsele. Perché nel 1960 la tecnica sovietica era molto più avanti della tecnica del suo antagonista che era il capitalismo americano. Infatti, se vi ricordate, l'Unione Sovietica è stata la prima a mandare lo Sputnik nello spazio quando l'America non era ancora in grado di farlo. Ma nel 1989 quando Gorbachev va nella capitale dell'Islanda a incontrare Reagan per implorare di non fare lo scudo stellare perché l'Unione Sovietica non avrebbe una contropartita a quel punto l'Unione Sovietica crolla. Perché? Perché finché aveva la potenza tecnica il fine che era l'egemonia del comunismo poteva essere mantenuto e realizzato. Ma se non è più la tecnica anche il fine crolla e con il fine crollano i tuoi scopi. Per cui l'Unione Sovietica non è caduta perché la gente doveva fare la fila per mangiare gli scaffali erano vuoti perché era controllata perché non poteva uscire dai suoi confini non sono mai queste ragioni umanistiche a decidere i capovolgiamenti storici bisogna guardare un po' più profondamente è stata la tecnica l'insufficienza tecnologica dell'Unione Sovietica a far crollare l'Unione Sovietica. Bene se noi ci siamo resi conto di questi scenari mi occuperò adesso di due scenari uno è la politica e uno è l'etica per vedere i grandi capovolgimenti che la tecnica produce in questi due scenari dal punto di vista della politica la tecnica ha determinato un capovolgimento radicale Platone che era quello che ha inventato la politica perché Platone diceva quando gli dèi hanno abbandonato il timone del mondo gli uomini hanno dovuto darsi delle leggi per governare la polis la città e quindi è nata la politica a cui Platone chiama basiliche tecniche tecnica regia perché è regia perché a differenza delle tecniche dice Platone che sanno come si devono fare le cose la tecnica decide se e perché si devono fare quindi governa le tecniche la politica oggi la politica non è più il luogo della decisione diciamolo chiaro netto e tondo perché per decidere la politica guarda l'economia e l'economia e l'economia per prendere le sue decisioni guarda le risorse tecnologiche le novità tecnologiche quindi il luogo della decisione si è spostato dalla politica all'economia e dall'economia alla tecnica ma la tecnica non tende a uno scopo non apre scenari di senso non dischiude orizzonte di verità la tecnica funziona e non ha scopi nel suo funzionare che non sia il suo autopotenziamento la tecnica non ha in vista il progresso dell'umanità la tecnica ha in vista solo il suo sviluppo utilizziamo questa differenza che Pasolini è particolarmente a Pasolini ha particolarmente sottolineato quando in più riprese la tecnica non ha in vista il progresso dell'umanità ha in vista semplicemente il suo autosviluppo cosa vuole la scienza? che si può fare tutto quello che si può fare si deve fare tutto quello che si può fare questa è l'etica della scienza della tecno-scienza se volete convincervi noi oggi siamo in grado di distruggere la Terra 20.000 volte con le bombe atomiche che abbiamo disseminato nel mondo 20.000 volte siamo già in grado di distruggere la Terra 20.000 volte questo dato di fatto perché non fa interrompere nei lavoratori nucleari la ricerca del miglioramento della bomba atomica cosa vogliamo migliorare in un contesto del genere? questo cosa vi sta a dire che la tecnica vuole se stessa vuole il suo autopotenziamento di lei si potrebbe dire quello che diceva Nietzsche della volontà di potenza cosa vuole la volontà di potenza? vuole se stessa tecnica vuole se stessa e allora abbiamo scatenato Prometeo che i greci avevano opportunamente incatenato e oggi la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare quindi ci muoviamo a mosca cieca e perché questo? ve lo dico dopo quando entriamo un po' in un laboratorio scientifico come succedono le cose la democrazia la democrazia soffre cominciamo a dire che la democrazia non significa andare a votare questo è necessario farlo è guai a chi non lo fa perché chi si disinteressa dalla cosa pubblica si disinteressa innanzitutto di se stessi e della sorta dei suoi simili detto questo la democrazia non consiste solo nel non andare a votare la democrazia è altre cose e cose soprattutto è consentire alle donne di poter lavorare quindi questo significa aprire tanti nidi e tanti asili nido significa ridurre le code per fare gli esami in ospedale perché nel frattempo si può anche morire significa creare le condizioni per cui tutti anche i meno abbienti possono studiare questa è democrazia il resto sono parole pla 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 se non si fa questo non siamo un paese democratico ma la democrazia come fa la democrazia come fa a fare questo che abbiamo il problema che oggi la tecnica pone sul tavolo dei problemi che oltrepassano la competenza media di tutti noi se ci chiedono se dobbiamo o non dobbiamo aprire le centrali nucleari noi per votare con competenza dovremmo essere dei fisici nucleari e siccome non siamo dei fisici nucleari come facciamo a decidere? se ci dicano adottiamo meno gli organismi geneticamente modificati io dovrei essere un biologo molecolare o un genetista perché solo a quel punto lì posso esprimere un parere razionale ma non lo sono e allora abbiamo bisogno di quella fascia intermedia che è la fascia dei competenti nel caso del covid i competenti erano gli epidemiologi erano i virologi la classe dei competenti i quali ci danno informazioni ma al potere la classe dei competenti non interessa proprio anzi qualcosa da mettere fuori in circolazione perché? perché in una società complessa come fai? se ti affidi a loro finisce per diventare uno che si affida a quelli che loro chiamano poteri forti che in realtà sono poteri debolissimi perché la scienza non è che abbia grande successo in Italia anche perché la si insegna poco nelle scuole ma se voi vi ricordate come sono stati disprezzati questi virologi e questi epidemiologi perché? perché in una società complessa chi ti dà una soluzione semplice non verificata ma efficace emotivamente a seguito il populismo è questo far fuori il sapere abbassare il livello delle scuole che in Italia è disastroso perché la scuola italiana al massimo istruisce ma non educa abbassare il livello delle scuole abbassare l'informazione ridurre l'atteggiamento critico creare persone disinformate che stanno a bere chi è efficace questo problema l'aveva già visto Platone Platone dice per essere democratici è necessario elevare il livello di istruzione degli attenesi perché altrimenti se non si eleva il livello di istruzione la paideia diceva Platone cosa succede? che gli attenesi seguono i sofisti che con falsi sillogismi notizie inventate false statistiche ingannano la popolazione e i retori che con la potenza della parola e la mozione degli affetti trascinano adepti ma su queste basi irrazionali la democrazia è impraticabile diceva Platone pertanto finché non avremo sollevato il livello di istruzione degli attenesi è bene che che la città sia governata dai migliori gli aristoi quelli che potremmo chiamare oggi governi tecnici noi ne avevamo uno molto buono l'abbiamo buttato via così tanto ne abbiamo in abbondanza si vede governi tecnici quindi anche la democrazia è a rischio passiamo all'etica tenete presente poi che nell'età della tecnica non sono più necessari di sciopere le adunate di massa la rivolta degli operai sì ci sono ancora ma sono più coreografiche che capaci di ottenere dei risultati io sono contento quando ci sono perché quando uno sta male ed è in sofferenza se si trova insieme ad altri non dico ma al comune mezzo gaudio ma quantomeno riceve un conforto e ogni cosa che conforta nelle difficoltà della vita è cosa buona però non ottiene niente perché? perché la tecnica non ha bisogno più delle piazze non è che le piazze non ci sono più perché è crollato il comunismo le piazze non ci sono più perché è arrivata la tecnica perché la tecnica cosa fa la tecnica? a lei è sufficiente che un piccolo settore di una sequenza tecnologica si astenga dal lavoro che si deve fermare tutta la sequenza se dieci controllori di volo di linate si astengono dal lavoro per un giorno non funziona più tutta la navigazione aerea non abbiamo bisogno più delle piazze la tecnica ci dà questo privilegio piccola sospensione di piccoli settori quello che gli americani chiamano non making power il potere di non fare di piccoli settori che sono molto più efficaci di quanto non sono efficaci i sciopoli generali cambiato tutto il rapporto sociale sulla base della sospensione o della continuazione del lavoro l'etica l'etica nell'età della tecnica è diventata dicevo prima patetica noi abbiamo conosciuto tre etiche nell'età della tecnica faccio breve perché dopo un po' sarete stanchi morti la prima etica è l'etica cristiana che è stata una grande etica che ha costruito tutto l'ordine giuridico europeo è un'etica che si fonda sull'intenzione che è derivata dalla stessa religione non so quelli vecchi come me che a suo tempo sono andati a catechismo hanno imparato che per fare un peccato mortale ci vuole piena avvertenza devi sapere cosa fai e deliberato consenso devi volerlo fare se ci fate caso queste categorie le abbiamo trasferite rigorosamente nell'ordine giuridico perché tu sia colpevole è necessario che cosa capacità di intendere e di volere cristianesimo puro l'etica dell'intenzione l'etica dell'intenzione ha regolato tutto l'ordine giuridico e continuo a regolarlo tuttora per cui di fronte a un delitto io sono colpevole se avevo intenzione di compierlo altrimenti se l'ho compiuto senza avere intenzione ho preso sotto una persona il mio delitto è colposo non sono colpevole oppure intenzionale oppure pretro intenzionale capite quest'etica dell'intenzione che tuttora governa tutto l'ordine giuridico allora la domanda è interessante conoscere che intenzioni avevano fermi e Oppenheimer quando hanno inventato la bomba atomica ma assolutamente no è molto più importante conoscere gli effetti della bomba atomica cioè passare il giudizio non dall'intenzione con cui tu compi un'azione ma gli effetti che la tua azione compie questo è molto più interessante a insegnarci queste cose sarà Max Weber nel 1900 la prima decode del 1900 l'altra etica interessante è quella di Kant il quale Kant dice fino adesso le nostre morali sono discese dalle varie religioni ma siccome le religioni sono tutte diverse la morale deve funzionare in maniera identica per tutti costruiamo una morale solo sulle basi della pura ragione supponendo che tutti ragionano naturalmente e allora cosa fa? formula questa nuova morale in quella formula diventata famosa bisogna trattare l'uomo sempre come un fine e mai come un mezzo e qui Kant non si accorge che questo è proprio il principio del cristianesimo perché trattare l'uomo come un fine e mai come un mezzo significa che arriva a dire che l'uomo è al centro del creato ed è la finalità a cui tutte le cose si devono rivolgere è un'etica che non si è mai realizzata se qui viene un immigrato il fatto che sia uomo non ce lo fa trattare come un fine ma ce lo fa trattare come un mezzo qualora renda profitto ma a parte questo quest'etica nell'età della tecnica non funziona più trattare l'uomo come un fine cosa vuol dire? che tutto il resto può essere trattato come un mezzo? l'acqua oggi è un mezzo o è un fine da salvaguardare? l'aria è un mezzo o un fine da salvaguardare? e la fauna e la flora e l'atmosfera e la biosfera sono tutti mezzi? o li dobbiamo salvaguardare? perché se non li salvaguardiamo è finita la storia umana sulla terra allora anche quest'etica non funziona Max Weber dice giustamente opportunamente quello che dicevo prima l'etica dell'intenzione non funziona bisogna passare all'etica della responsabilità che consiste innanzitutto che a me le tue intenzioni per cui tu compi le azioni non mi interessano perché in interiorità te ommini nell'interiorità dell'uomo è molto difficile entrare e poi non mi interessano granché perché mi interessano gli effetti delle tue azioni allora tu sarai misurato sugli effetti delle tue azioni non sulle intenzioni che le hanno promosse che sono inverificabili però Weber è intelligente e apro una parentesi finché gli effetti sono verificabili ora è proprio della tecnoscienza produrre effetti inverificabili la scienza non sa cosa cerca e quello che trova sono effetti di sperimentazioni riusciti riuscite sono effetti di procedure riuscite io non so se qualcuno di voi ha frequentato i laboratori quando Veronesi vi diceva e adesso dicono tutti dateci soldi mezzo per un fine ricerca sul cancro no? e fa così perché perché lui sa che noi da animali mal ridotti pensiamo sempre in termini finalistici ma la scienza non pensa in termini finalistici pensa in termini procedurali che significa questo? vogliamo trovare qualcosa per il cancro allora tu cerchi per 15 anni studi questo neurotrasmettitore tu per 10 anni studi questa cellula tu per 15 anni studi questa molecola 3 vuol dire 300.000 ecco se poi da questi studi salta fuori qualcosa di positivo bene viene utilizzato per ridurre per guarire la malattia se invece non succede qualcosa di positivo o amel viene tutto abbandonato si ricomincia si rinuncia si ricomincia da un'altra parte ma allora quello che si trova è l'effetto di procedure riuscite capito non è lo scopo mia moglie che è morta nel 2008 era una biologa molecolare aveva due cattedra all'università di Milano biologia molecolare e biotecnologie per 10 anni ha cercato una cosa che si chiamava di aspartato ossidase non mi chiedete che cos'è perché ho già sofferto troppo per questa ricerca perché era il tema abituale di tutte le discussioni l'hai trovato o non l'hai trovato questo di aspartato ossidase poi gli americani hanno abbandonato le ricerche poi anche i giapponesi a quel punto mi sono sentito di dire Tatiana ma forse di aspartato ossidase non c'è possiamo anche smettere di arrovellarci il cervello su questo di aspartato ossidase quindi 6 giorni dopo l'ha trovato alla mia domanda che cos'è di aspartato ossidase volete sentire la sua risposta e che ne so capito che cosa vuol dire fare ricerca scientifica e che ne so noi non dobbiamo non dobbiamo cercare le cose perché sappiamo quando abbiamo trovato qualcosa questa ci servirà per scoprire più in là che cosa servirà e dice ma qual è allora la vostra etica conoscere tutto ciò che si può conoscere e di conseguenza fare tutto ciò che si può fare al di là di tutti i divieti etici politici che possono intervenire in questa in questa logica della scienza non so che cosa serve si scoprirà adesso si è scoperto che è un neurotrasmettitore molto utile per la costruzione di tanti farmaci adesso ma lei non lo sapeva e non lo sapeva nessuno però aveva scoperto la formula la sequenza dieci anni capite cosa vuol dire fare scienza e quello che noi conosciamo non è lo scopo per cui si parte ma è l'effetto di una procedura parziale che poi produce altre procedure e poi alla fine se va bene producono qualcosa altrimenti no quando è cominciato l'età della tecnica qui chiudiamo perché sarete morti di stanchezza io seguo l'ipotesi di un filosofo che era allievo di Martin Heidegger che è ebreo scappato dal nazismo andato in America a lavorare alla Ford e ha scritto al suo maestro maestro lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere io qui alla Ford sono il pastore delle macchine e nel rapporto uomo-macchina la guida è già passata alla macchina Gunther Anders dice che l'età della tecnica è cominciata con il nazismo non è cominciata con la rivoluzione industriale tutte quelle cose lì dove l'uomo era ancora padrone in qualche modo delle macchine azionava le macchine eccetera è cominciata con il nazismo che lui definisce un teatrino di provincia rispetto all'età della tecnica è una frase molto forte detto però da un ebreo che è scappato dalla Germania io sono d'accordo con lui non tanto nella proporzione che lui pone ma nella logica che sottende questo paragone la logica è stringente ed è la seguente ve la esplico senza troppi ragionamenti con un esempio un giorno Gitto Sereni che è una giornalista ungherese naturalizzata inglese fa 170 interviste al direttore del campo di concentramento di Treblinka tale Franz Stangl morto una decina di anni fa senza mai passare un giorno in galera queste 170 interviste sono raccolte in un libro ad Elfi intitolato In quelle tenebre e lei per 170 volte chiede a Franz Stangl cosa provava a fare queste cose Franz Stangl non risponde mai a questa domanda a un certo punto a Gitto Sereni viene il sospetto che Franz Stangl non risponde non perché si vergogna ma perché non capisce la domanda alla fine Franz Stangl si irrita e dice scusi perché lei continua a chiedermi cosa provavo io non ero incaricato di provare qualcosa io ero incaricato di far funzionare il sistema questo era il mio compito e se il sistema prevedeva 5.000 soppressioni di uomini entro le 11 del mattino e 3.000 entro le 5 del pomeriggio e l'indomani bisognava fare tutto piazza pulita per ricominciare da capo con lo stesso ritmo io ero un ottimo funzionario non ero incaricato di provare qualcosa bene questo è il modellino della tecnica se andate in banca supponete che ci sia un capo area che dice insomma i funzionari di banca noi abbiamo qui in pancia in questa banca troppi derivati troppi titoli di spazzatura vedete diventerne ciascuno mille al mese a chi vuole investire e non se ne intende tanto di economia l'impiegato può provare qualcosa ma o obbedisce oppure viene licenziata situazione analoga chiaro il concetto? quando nel Bresciano si costruiscono le mine anti-uomos quando uno è bravo operaio bravo operaio quando su 100 che ne costruisce 90 saltano per aria perché su 100 che ne costruisce ne saltano solo 50 non è un bravo operaio e allora cos'è il bravo bene e il male bene e il male è bravo quando compi le azioni descritte e prescritte dall'apparato le finalità dell'apparato non ti riguardano l'importante è se tu esegui bene le azioni descritte e prescritte dall'apparato ma anche quando andate all'ospedale con delle malattie serie si applicano dei protocolli giusto? ecco questi protocolli io ho sentito in un congresso cardiologico dove mi avevo invenuto a parlare naturalmente del cuore in senso metaforico perché non so niente delle malattie cardiache però ho sentito un medico che era considerato il più bravo medico del mondo in termini di cardiologia americano il quale ha detto che i pazienti si collocano in una curva di Gauss sapete cos'è una curva di Gauss? quelli che sono in mezzo che sono i più se applicate il protocollo funziona quelli che sono all'inizio della curva o alla fine della curva se applicate il protocollo dicevo costrui li ammazzate allora io sono un medico vedo che uno sta lì all'inizio della curva e non è proprio in mezzo con la sua qualità sintomatica se applico il protocollo lo ammazzo però se muore io ho applicato il protocollo se invece non lo applico provo a salvarlo in un'altra maniera poi quello mi muore lo stesso e non ho applicato il protocollo io vado nei guai Franz Stangl tu la responsabilità ce l'hai solo nei confronti dei superiori non ce l'hai mai quella persona che è di fronte a te c'è una limitazione della responsabilità solo in senso verticale e giustamente i nazisti quando erano processati rispondevano io obbedito agli ordini se tu nel tuo apparato ubbidisci agli ordini e fai le cose secondo i valori della tecnica che sono efficienza produttività funzionalità velocizzazione del tempo che ha già superato la capacità temporale della nostra psiche no? per cui in Italia che è un paese dove c'è il sole dove si mangia bene dove si parla parlare fa bene però il 55% della popolazione usa psicofarmaci e poi ci sono quelle che aggiungono anche la cocaina visto che a Milano con un po' di prelievi fatti nel naviglio si è visto che è pieno di cocaina questa è la condizione degli italiani velocizzazione del tempo è un valore che ha già superato la nostra capacità temporale e allora tu sei giudicato su questo io che non pago le bollette online perché non sono capace e poi se imparo mi dimentico e sbaglio allora vado in posta in posta all'ufficio postale vedi che ci sono delle vecchiette che chiedono le spiegazioni ogni tanto capita che non capiscano e le impiegate almeno dove vado io sono molto gentili si trattengono a spiegarli poi da voi a un certo punto gli dicono vede signora io la vorrei aiutare ma non è di mia competenza questa Franz Stangl in forma gentile anche per Franz Stangl non era di sua competenza provare qualcosa si capisce? capito in che senso si dice che il nazismo ha dato la formula dell'età della tecnica chiudo con questa definizione cos'è la tecnica? la tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo che consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi quello che noi chiamiamo tecnica non è tecnica è tecnologia telefonini frigoriferi automobili computer questa è tecnologia che segue la logica della tecnica ma la razionalità della tecnica è questa raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi questa questa razionalità è condivisa anche dal mercato però il mercato ha ancora una passione umana che è la passione per il denaro da cui la tecnica è del tutto esonerata e allora cosa succede? succede che tutta la parte irrazionale dell'uomo ciò per cui un uomo è quell'uomo lì deve fuori uscire dal sistema non deve interferire col sistema dall'efficienza dalla produttività e della razionalità tecnica ma che cos'è l'irrazionale dell'uomo? è irrazionale il dolore è irrazionale l'amore è irrazionale la fede è irrazionale l'immaginazione l'idealizzazione l'ideazione il sogno tutta sta roba via disturba per cui ciascuno di noi è costretto a una sorta di schizofrenia funzionale dal lunedì al venerdì diventa un funzionale d'apparato che deve eseguire nel modo migliore le azioni prescritte e descritte dall'apparato sabato o domenico se ha ancora qualche interesse per sé si può occupare delle sue dimensioni irrazionali che sono ciò per cui ciascuno di noi è diverso dall'altro sono ciò per cui ciascuno di noi è se stesso togliete l'amore togliete il dolore togliete la fede togliete l'idealizzazione togliete il sogno dove è l'uomo? adesso poi con la con lo sviluppo dell'informatica siamo arrivati che le nostre mansioni vengono decise dall'algoritmo no? prima ci raccolgono i nostri micro desideri micro bisogni micro comportamenti li dispongono nel big data li frullano li passano all'algoritmo e l'algoritmo ci fa un profilo questo profilo non dice chi siamo che non interessa a nessuno dice a cosa serviamo dopo di che si diffonde se questa mentalità si diffonde tutto quello che riguarda che non riguarda la funzionalità il servizio che non riguarda l'utilizzabilità diventa insignificante le persone si riconoscono col biglietto da visita non più col loro nome e cognome la tua identità l'hai consegnata al ruolo e il ruolo ti fa crescere la tua identità se ti promuove o te la fa decrescere se ti fa il mobbing dipendi dal ruolo la tua identità per i ragazzi incomincia già ad essere così dipende dai follower dai like la loro identità non ce l'hai più addosso l'identità arriva da un'altra parte che non è in tuo potere chiudo con una bellissima citazione di Martin Heidegger 1952 dice Heidegger inquietante non è che tutto l'universo si traduca in un enorme apparato tecnico ancora più inquietante che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo ma ancora più inquietante è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero capace solo di far di conto conti economici conti tecnici Denken als Recknen un pensiero capace solo di far di calcolo e questo è diventato ormai comune per cui noi non sappiamo più che cosa è vero che cosa è bello che cosa è santo che cosa è buono che cosa è artistico sappiamo solo che cosa è utile anche l'arte che sembra un'espressione dello spirito quando diventa arte quando entra nel mercato perché se non entra nel mercato resta solo un'espressione biografica non mi riuscirà mai da lamento un episodio al cui ho assistito perché io insegnavo a Ca' Foscari Venezia però abitavo a Milano e ogni settimana andavo a Venezia e un giorno salendo sul treno c'è stata una ragazzina con una bella arpa che è salita non grande come quella della scala ma anche di piccole dimensioni abbastanza ingombrante per un treno insomma comunque abbiamo fatto tutti i posti molto gratificati di questa scena c'era un signore molto elegante che si è messo a parlare con lei per lungo tempo con quali altri strumenti si suona l'arpa in quali concerti si usa quante ore di servizio deve fare tutte queste belle cose molto interessato e molto gentile alla fine questo signore scende a Brescia rivolto alla suonatrice dell'arpa gli dice senta io ho ammirato tutto il suo entesiasmo tutta la sua dedizione a questo strumento ma mi tolga una curiosità a suonare l'arpa dove è il business eccolo qua al pensiero calcolante siamo capaci di pensare diversamente grazie